Banca di Teramo, l'ex governatore Gianni Chiodi alla presidenza del collegio dei revisori. Il caro scuola, le mamme teramane si costituiscono in un comitato unico e decidono di non partecipare a Ballarò. Intitolazioni, da oggi a Colleparco c'è una piazza dedicata al vescovo Conigli. Cronaca circolava con un permesso invalidi di una donna deceduta due anni fa, denunciato dai vigili. Rincari comunali, il centro-sinistra attacca la giunta, pagate gli aumenti eliminando un assessorato. Alta Cucina, Masterchef Teramano, per il cuoco Bruno Barbieri a confronto con le casalinghe. Sport Calcio, l'Aquila sfata il tabufattori e batte la Lucchese. Il Teramo alle 20.30 a Ferrara contro la Spal. Serie D, Giulia Novacelano e il derby della sesta di campionato. Chieti e San Nicolò inseguono il primato. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. L'elezione del Collegio dei Revisori della Banca di Teramo ha confermato le indiscrezioni della vigilia. I soci hanno eletto Gianni Chiodi, presidente dell'organo di vigilanza. Dopo le dimissioni dei predecessori uscenti, Antonio Bucciarelli, Alberto Davide ed Elio Ciaffi. Chiodi, insieme agli altri due membri eletti, Dodo Di Sabatino ed Elio Di Domenico, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2015. Il suo incarico scadrà in concomitanza con quello del presidente Cristiano Artoni. Per il collegio sindacale io proclamo eletti, signori, Chiodi Giovanni a presidente con 232 voti. Di Domenico Elio al sindaco effettivo con 203 voti, di Sabatino Martino Alfonso al sindaco effettivo con 200 voti. Tutto come previsto, l'assemblea dei soci ha confermato le indiscrezioni della vigilia. Il nuovo presidente del Collegio dei Revisori della Banca di Teramo è Gianni Chiodi, che si è imposto con 232 preferenze su un totale di 284 soci presenti al voto. Ad affiancare il presidente del Collegio saranno i sindaci revisori Elio Di Domenico, che ha ottenuto 204 voti, e Alfonso Di Sabatino Martina, che ne ha ottenuti 200. Tutti e tre i componenti hanno ottenuto l'80% delle preferenze dei presenti. Soddisfatto è il neopresidente Gianni Chiodi, che ha ringraziato il CDA per la designazione nel ruolo di vigilanza e controllo e che si è impegnato a esercitarlo con rigore. Per Chiodi è una sorta di ritorno a casa dal momento che nel 1994 figurava proprio tra i membri del Comitato Promotore della Banca, di cui ha ricoperto già in passato il ruolo di revisore. Soddisfatto è anche il presidente Artoni, che ha colto l'occasione per sottolineare le ottime performance della banca. Mi fa piacere che i tre nominativi che abbiamo pensato noi, senza nulla togliere agli altri, siano stati accettati dai soci in modo consistente. La banca sta facendo degli utili importanti, c'è una semestrale che è importante. Tutto ciò che ha di utile lo ha destinato ad accantonamenti, ma metti fino in cascina, come si dice, quindi va bene così. Oggi erano presenti oltre 200 soci, mentre un centinaio di soci che si dichiarano in qualche modo delusi hanno manifestato il loro dissenso non partecipando all'assemblea. È uno strappo che intendete ricucire, c'è un confronto in atto? Io non li ho mai incontrati, la mia porta aperta, quando vogliono, pronti a incontrare chiunque e vedremo quali sono le problematiche. Quindi pronti a fare il confronto, venissero a confrontarsi e noi siamo pronti. A margine dell'assemblea, il direttore generale dell'istituto di credito, Fernando De Flavis, ha messo in evidenza alcuni numeri. Un risultato lordo nel 2014 incrementato di circa il 60% rispetto all'anno precedente. È un primo semestre che ha chiuso con un risultato lordo che supera i 3 milioni e 300 mila euro. Una cifra che complessivamente costituisce un riallinamento rispetto ai rilievi mossi da Banca Italia e che comprende anche un 20% di utili. E torniamo a parlare del caro scuola a Teramo. Le mamme Teramane si costituiscono in un comitato unico e allargano la piattaforma della loro protesta a tutte le questioni legate alla scuola, dai rincari sui buoni pasto al trasporto scolastico e la sicurezza negli edifici scolastici della città. Non ci saranno portavoce ma sarà nominato un gruppo ristretto con il compito di coordinare i genitori nei plessi scolastici. La decisione è stata presa questa mattina all'unanimità dal comitato che si è riunito a seguito della protesta dei passeggini di giovedì scorso in piazza Orsini. Il comitato che annuncia anche la redazione di un vero e proprio manifesto sempre questa mattina ha scelto all'unanimità di non partecipare con un collegamento esterno al talk show Ballarò in onda martedì su Rai 3 perché ritenuto non opportuno in questa fase. Giudizio positivo intanto viene espresso sull'apertura del sindaco Brucchi ad un nuovo incontro in programma la prossima settimana. Il giudizio però resta severo sulle modalità dell'iter che ha portato l'amministrazione a decidere il rincaro dei buoni pasto. Intanto questa mattina il sindaco Brucchi ha ribadito che la delibera per l'inserimento di un'ulteriore fascia di reddito ISEE a 17.600 euro a cui sarà applicato un aumento di 30 centesimi anziché 80 è pronta e sarà approvata nei prossimi dieci giorni ma solo dopo il nuovo confronto con il comitato delle mamme. Il centro-sinistra di Teramo attacca l'amministrazione Brucchi che ha aumentato tutto. Le tasse e poi il costo del trasporto con gli scuola, bussi, buoni mensa e anche il numero degli assessori. Li paghino loro questi aumenti hanno detto i rappresentanti del centro-sinistra abbassandosi i compensi. Il partito democratico Teramano e Teramo Cambia non mollano la presa e attaccano. Il settore bilancio del comune di Teramo dicono lancia l'allarme per i conti boccheggianti dell'ente. L'amministrazione che fa nomina nove assessori e poi aumenta tasse e costi dei servizi scuola, bus e mense scolastiche. E allora PD e Teramo Cambia propongono. Perché non pagano questi aumenti i componenti della giunta? Almeno fino a gennaio, quando dovrebbero essere inserite altre fasce di reddito che prevedano aumenti più contenuti per i buoni pasto. Abbiamo visto l'applicazione della Tasi, della Tari e dell'Imu al massimo, ma soprattutto la Tasi sulla quale abbiamo fatto una battaglia in consiglio che in questi giorni le famiglie stanno pagando, dove è evidente un aumento spropositato rispetto all'Imu del 2012. Parliamo dell'ICI sulla prima casa per capirci. Non è più prevista alcuna detrazione per figlio, cosicché le famiglie più numerose avranno da pagare una Tasi più alta rispetto agli altri. Questo credo che sia una cosa grave per le famiglie e per la città. A questo si aggiunge che le famiglie sono ulteriormente colpite dagli aumenti di cui abbiamo parlato in questi giorni che riguarda il trasporto degli alunni nelle scuole e soprattutto il buono mensa. Ora io mi domando, è possibile che un'amministrazione che ha nove assessori, cioè il massimo previsto dalla legge, non è riuscita a dare un segnale, cioè diminuire il numero degli assessori, diminuire l'indianità che prendono gli assessori, il sindaco e il presidente del consiglio per compartecipare alla spesa della mente scolastica o compartecipare alla spesa dei nonni vigili davanti alla scuola che fanno un servizio importante per la collettività o a compartecipare per non aumentare il trasporto degli alunni. Io credo che questo almeno era un segnale che questa amministrazione doveva dare, ma dimostra di essere più attaccato agli equilibri politici che ai bisogni delle famiglie terramane. Sarà intitolata da Bele Conigli il bescovo di Teramo ed ha anteri scomparso nel 2005 la nuova piazza della chiesa di San Gabriele della Dolorata di Colleparco. Questa mattina il sindaco Brucchi e l'assessore ai lavori pubblici di Giovan Giacomo hanno illustrato l'opera finanziata con 350 mila euro di fondi PISU. Oltre alla piazza è stato realizzato anche un percorso pedonale di collegamento con via Memmingen. Il servizio. Piazza a Bele Conigli è il nome della nuova piazza di Colleparco realizzata accanto alla chiesa di San Gabriele della Dolorata e servita anche da un percorso pedonale. La piazza per sua definizione non sarà solo a servizio della chiesa in occasione delle funzioni più partecipate ma fungerà da punto di aggregazione dell'intero quartiere di Colleparco. Oggi possiamo godere la realizzazione di quest'opera che veramente risponde non a un desiderio qualunque ma a un'esigenza straordinaria non soltanto della parrocchia ma del quartiere intero, anzi del territorio perché qui da qualunque parte si venga sia un punto d'appoggio. Voglio ringraziare Don Giovanni che da tempo ogni quotidianamente veniva a peronare questa causa della piazza del parcheggio della chiesa di Colleparco. Porto di lavoro complessivo di 350 mila euro, di lavori circa 150. Questa era ed è una richiesta del quartiere di Colleparco fa parte di questi fondi europei, piani integrati di sviluppo urbano che cominciano a vedere la realizzazione delle varie opere nei quartieri di Colleparco, Colle Atterrato, della Gammarana e anche della Cona. Era uno spazio necessario, è una bella piazza, tanti posti auto, un percorso pedonale per arrivare anche a piedi. Quindi una grande soddisfazione ma non tanto per il sindaco Maurizio Brucchi che è comunque soddisfatto ma soprattutto per i cittadini di questo quartiere. Domani più di 570 amministratori al voto per la scelta del nuovo presidente della provincia di Teramo e dei 12 consiglieri provinciali. Il seggio di Via Milli sarà aperto dalle 8 alle 20, lo scrutinio ci sarà lunedì. In corsa per la presidenza il sindaco di Atri Gabriele Astolfi per il centrodestra e per il centrosinistra il capogruppo oscente del PD in consiglio provinciale Renzo Di Sabatino. Domani dalle 8 alle 20 si vota per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio della provincia di Teramo. I candidati presidenti sono Renzo Di Sabatino per il centrosinistra, 52 anni, avvocato e capogruppo oscente del PD in consiglio provinciale e per il centrodestra il sindaco di Atri Gabriele Astolfi, 50 anni, imprenditore. L'elettorato attivo è composto da 576 amministratori tra sindaci e consiglieri. All'elezione di secondo livello non partecipano i cittadini. In tutto sono 12 consiglieri da eleggere, tre le liste presentate. Costituente popolare per Teramo, la casa dei comuni, la forza del territorio con Astolfi. Le operazioni di scrutinio inizieranno un'idea alle 8 e la proclamazione degli eletti deve avvenire entro le 24 ore successive. Agli elettori saranno consegnate due schede, una per il presidente e una per il consiglio. Le schede del consiglio sono suddivise per colore sulla base della fascia di popolazione in maniera da facilitare il calcolo del valore ponderale, ovvero il peso di ciascun consigliere rispetto alla popolazione rappresentata. Nel complesso quindi le schede per il consiglio sono cinque. Azzurre per i comuni fino a 3.000 abitanti, valore ponderale 57. Arancione per i comuni fino a 5.000 abitanti, valore ponderale 120. Grigie fino a 10.000 abitanti, valore ponderale 205. Rosse fino a 30.000 abitanti, valore ponderale 257. E verdi fino a 100.000 abitanti, valore ponderale 596. Per l'attribuzione dei seggi è previsto il metodo DONT, un metodo matematico applicato nei sistemi elettorali che utilizzano il proporzionale. Non è necessario il raggiungimento di un quorum, è prevista la partecipazione dei rappresentanti di lista. Quelle di domenica sono le prime elezioni nelle quali la provincia diventa ufficio elettorale e dunque seggio. Per le operazioni di voto è stato costituito un ufficio ad hoc ed è stata creata un'apposita sezione nel sito dell'ente, dove sono pubblicati gli atti, le fac, i fac simile, i profili dei candidati, le liste e ogni altra informazione utile su questo tipo di elezione. Protesta all'ASL di Teramo per il blocco del sistema che ha impedito per buona parte della mattinata a decine e decine di utenti di sottoporsi ai prelievi per gli esami ematochimici. È stato un problema che ha riguardato tutto l'ospedale, ma i disagi più importanti e diretti sono stati registrati nel laboratorio analisi del secondo lotto dell'ospedale Mazzini e del centro prelievi della sede in circonvallazione Ragusa. Ma in sostanza anche negli altri tre pesidi ospedalieri di Giulia Novatri e Santomero che sono collegati in rete. Dalle 9 alle 10.30 non sono stati effettuati prelievi per l'impossibilità di inserire i dati nel sistema e molti pazienti sono stati invitati a tornare in un altro giorno per evitare lunghissime attese. Poi lo sblocco del programma ha permesso di riprendere la normale attività. A quanto è stato accertato, il problema è scaturito da alcuni problemi alle infrastrutture di rete che non facevano dialogare server dei presidi con molti dei computer delle strutture che non ricevevano gli indirizzi IP per avviare il collegamento in internet. Origine diversa da un'interruzione analoga la scorsa settimana che aveva recato ancora disagi con ovvie ripercussioni sulle esigenze sanitarie di tantissimi utenti che in moltissimi casi hanno bisogno di analisi urgenti e soprattutto delicati che altrove, ad esempio nei laboratori privati, non è possibile svolgere. In quella occasione era stato invece un problema interno al laboratorio a determinare un blackout dei terminali per oltre due ore e mezza. E restiamo all'ASL di Teramo. Ravoratrice in maternità senza stipendio da agosto. La UIL denuncia il caso di una dipendente della Niche, la società che fino a luglio ha gestito il servizio Ticket e CUP dell'ASL di Teramo. Sentiamo. Di Gianmartino c'è una lavoratrice della Niche in maternità che è rimasta senza stipendi da agosto. Voi denunciate questo caso? Assolutamente sì, è deprovole. Una signora, mamma di famiglia, in maternità, che dovrebbe percepire lo stipendio mensilmente e invece viene a tutt'oggi negato. E stando in maternità, il pagamento avviene attraverso le risorse dell'Imbes, anticipato dall'azienda o conguagliato dall'azienda. Questo è straordinario. Voi avete chiesto anche la messa in mora sia della Niche che della ASL che fino a qualche mese fa dava in gestione l'appalto per i ticket e per il CUP. Sì, considerate che la norma prevede che l'endappaltante risponde insolito e quindi certo abbiamo coinvolto anche la ALS oltre a rispetto al rato del lavoro di verificare quello che sta succedendo. Stiamo investendo anche l'Imbes perché a questo punto può essere direttamente l'Imbes a pagare la lavorazione. E anche gli altri 90 lavoratori ex Niche non stanno ricevendo il trattamento? Oggi l'altro gruppo di lavoratori che ne sono oltre 90 sono senza stipendio dell'ultima mensilità, non è stata reteguita e non è stato pagato il trattamento di fine rapporto, il cosiddetto FFR. A Pescara, Rifondazione Comunista e Unione Inquilini hanno organizzato un presidio in pieno centro cittadino per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di quanti, perso il lavoro, rischiano di perdere anche un tetto. Durante il sit-in, il portavoce dell'Unione Inquilini di Pescara, Walter Rapattoni, ha chiesto a gran voce una nuova politica sociale della casa e il servizio. Un sit-in per il diritto alla casa perché sempre più spesso alla perdita del lavoro si associa anche al dramma della perdita della propria abitazione. Per questo l'Unione Inquilini di Pescara ha organizzato una manifestazione in centro cittadino a Piazza Sacro Cuore, un presidio che il presidente dell'Associazione Walter Rapattoni definisce un presidio di legalità. Sì, questa è la terza giornata internazionale Sfratti Zero perché nella stessa giornata si è presenti in oltre 60 città d'Italia e in diversi paesi d'Europa per porre l'attenzione della politica sulla questione abitativa. In questi anni la crisi morde, si sono persi tantissimi posti di lavoro e come purtroppo avevamo lanciato con un vecchio slogan perdi il lavoro, perdi anche la casa. I dati anche in Abruzzo sono drammatici. Nel solo 2013 c'è stato un aumento del 30% degli sfratti di cui quasi il 95% sono per morosite incolpevoli. Parliamo di ben 1024 nuove sentenze di sfatto emesse di cui ben 957 sono per morosite incolpevoli. Per capirci, di persone che non riescono più a pagare il canone d'affitto di locazione non per scelta ma perché hanno perso il posto di lavoro e non riescono più a far fronte a questo canone. A queste sentenze di sfatto vanno a sommarsi pure tutta una serie di proprietari giovani coppie che avevano acquistato la casa con il mutuo e che non riescono neanche più loro a far fronte. Questa giornata serve per chiedere intanto a livello regionale l'applicazione della legge regionale che è stata votata a inizio anno per l'attuazione delle commissioni di graduazione e gli sfratti cioè per consentire il passaggio di casa a casa e in secondo luogo per chiedere una politica abitativa e un maggiore investimento pubblico. Falso e invalido smascherato dalla Polizia Municipale in Piazza Martiri della Libertà a Teramo i vigili hanno infatti controllato ieri un'autovettura in sosta che esponeva un irregolare contrassegno per portatori di handicap oltre ad essere scaduto risultava di persona deceduta da più di due anni l'accertamento che è giunto al termine di un'accurata attività di indagine ha portato all'individuazione dell'autore del falso che è stato sanzionato intanto con un verbale al codice della strada per un importo di 121 euro. Sono in corso valutazioni al fine di procedere alla denuncia del trasgressore alla Procura della Repubblica. L'intervento della Polizia Municipale si iscrive nell'ambito delle attività di verifica e controllo del territorio che nelle ultime settimane si sono intensificate e stanno dando risultati significativi. Il coordinatore regionale del sindacato SINAP degli agenti di Polizia Penitenziaria Giampiero Cordoni denuncia uno Stato che definisce fallimentare della gestione del carcere di Castrogno. La realtà è quella di un set cinematografico dice bella facciata ma sorretta da tubi in metallo sotto accusa per il SINAP l'organizzazione del lavoro è una presunta mancanza di condivisione tra direttore e comandante che provoca precarietà quotidiana che si riflette sul personale. Cordoni sottolinea ritardi nella stesura delle sintesi che hanno effetto sulla concessione dei benefici ai detenuti ma anche di un'area sanitaria del penitenziario piena di offerte specialistiche solo sulla carta che hanno l'unico effetto di portare a Castrogno più detenuti. Il coordinatore regionale annunciando di aver chiesto un incontro all'ispettore regionale pone l'accento anche alle condizioni strutturali del carcere che definisce fatiscente e senza manutenzione con condizioni igieniche precarie. Non vediamo altra possibilità di soluzioni conclude Cordoni se non denunciare costantemente ai massimi livelli i rischi del probabile prossimo collasso di tutta la struttura di Castrogno. Il terreno di gioco del Campo Castrum di Giulianova è in condizioni disastrose il custode, soprattutto dopo la pioggia non può neanche livellarlo tutte le società che lo utilizzano chiedono al comune il manto in erba sintetica e servizio. Alberico De Miglio è il nuovo custode del Campo Castrum com'è questo Campo Castrum? Per far giocare parecchie squadre buono se fosse sindetico fosse perfetto. Vediamo che ora si è tutto ammollato già con la pioggia e qui le prime d'inverno e la pozzangra quando piove molto e dei stati di marmo? Di marmo e polveroso Che fa la polvere? Beh, bene non farà però purtroppo c'è questo ci dobbiamo arrangiare Senti, se non c'abbiamo altro Giuglianova c'abbiamo il Fadini e questo e c'è il Campo Scuola Vabbè, però non ci possono andare tutti Beh, quando pare non lo so Quante squadre ci si allenano qua? Beh, ci si allenano tutti il settore giovanile del città di Giulianova Quindi quante squadre sono? Sono tre squadre e penso una quarta squadra che è con i giovanissimi provinciali Quindi quattro squadre Quattro squadre Poi? Poi c'è la Calcio Giulianova con la prima squadra e poi ci sarà Ci sono le squadre amatoriali No, c'è l'annunziata la seconda Calcio Giulianova prima categoria annunziata seconda categoria e due squadre di amatoriale da cui una si allena la Mappet e l'altra invece ci sono le gioca Quindi ne sono sette Sì E come la fai? Questo ne la fai? Farà quello che può fare Speriamo che qualcuno ci pensi E poi tra l'altro sono tutti che va a allenarsi tutti di pomeriggio, di sera, vero? Di sera, con la pioggia Ci vuole sintetico qua ormai Si è capito? Penso di sì Perché se no non si può continuare con tutte queste squadre Penso di sì perché anche ecco io non ci posso entrare per dargli una Una livellata Una livellata diciamo quello che si può fare e quindi perché è bagnato e automaticamente mi scivola con la macchina non ci si può entrare se non si asciuga bene non si può entrare Anche a Teramo si celebra la 64esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro La manifestazione promossa dall'ANMIL l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro di Teramo si svolgerà domani mattina alle 9 ci sarà il raduno dei partecipanti in piazza San Francesco poi il corteo preceduto dalla banda di Tossicia raggiungerà largo Madonna delle Grazie e qui alle 10 sarà celebrata la messa a seguire sarà deposta una corona da loro davanti al monumento ANMIL e una studentessa universitaria reciterà la preghiera dell'invalido alle 11 si proseguirà con la cerimonia civile secondo l'ultimo rapporto annuale 2013 reso noto dall'INAIL c'è stato un calo complessivo di circa 50.000 infortuni pari a meno 6% passando da circa 740.000 casi denunciati nel 2012 a 695.000 denunciati nel 2013 è stato rinnovato il comitato di quartiere di Villa Pavone Colleatterrato il nuovo presidente del consiglio direttivo è Giuliano Lucenti Rosario Antonio Luongo il vice Leonardo Codirenzi il segretario e Marcello Torbidone il tesoriere Raffaele Raiola sarà investito del ruolo di coadiuatore consigliere personale del presidente sulla democrazia partecipativa il famoso chef Bruno Barbieri è stato ieri a Teramo ospite del mobilificio di Sante dove ha incontrato le donne teramane che hanno cucinato sottoponendo i loro piatti al suo severo giudizio Barbieri è rimasto colpito soprattutto dalle mazzarelle è lo chef italiano con il maggior numero di stelle Michelin conquistate nel corso della sua carriera Bruno Barbieri romagnolo doc si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto grazie alla trasmissione televisiva Masterchef una vera e propria star accolto come tale dalle donne teramane che al mobilificio di Sante si sono sottoposti al suo giudizio portando piatti preparati per l'occasione il grande chef è stato ospite della famiglia di Sante in occasione dell'inaugurazione di un nuovo showroom nello storico mobilificio di San Nicolò si sono molto contento di essere qui in questa piccola frazione San Nicolò di Teramo con le chef di casa del paese che sono venuti oggi a cucinare qua faremo un piccolo un piccolo un piccolo Masterchef dove loro cucineranno e dove io giudicherò i loro piatti che sicuramente saranno molto buoni perché sono loro veramente che cucinano come dicevamo lei è stato accolto come una vera e propria star questo fenomeno degli chef stellati come lei che oggi sostituiscono quasi gli attori nel cuore delle donne cosa sta succedendo? beh finalmente si sono accorti che ci siamo nel senso che comunque oggi il mestiere dello chef è diventato un mestiere importante è diventato finalmente un mestiere io ricordo anni fa quando feci la scuola berghiera io era insomma un lavoro per chi non aveva tanta voglia di studiare oggi all'alberghiero sono cambiate molte cose finalmente oggi è una scuola dove devi imparare comunque delle lingue dove impari veramente un mestiere importante sì è un regalo anche per noi ma è anche un messaggio quello di non porci limiti noi siamo un po' abituati in provincia a pensare che alcune realtà alcune situazioni siano per noi inarrivabili ecco non dobbiamo porci limiti in nessun senso i nostri giovani possono raggiungere tutti i traguardi che vogliono le nostre aziende sono in grado veramente di competere con le aziende del mondo non soltanto dell'Italia ma abbiamo avuto questa idea di portare a San Nicolò nell'azienda di San De Mobili un grandissimo nome un nome di prestigio del mondo della cucina ma anche un personaggio che promuove i nostri valori più rilevanti più autentici la buona cucina e il turismo e quindi promuove l'Italia Serata a Clu al 19esimo premio di Venanzo è ancora in corso la cerimonia di premiazione della manifestazione dedicata agli autori della fotografia cinematografica tanti personaggi del cinema che si sono ritrovati nella sala polifunzionale della provincia a Teramo presente la regista Asia Argento madrina della serata e tra gli altri i colleghi Marco Risi e Daniele Cipri lunedì prossimo vi proporremo un ampio servizio sulla manifestazione ma ora ascoltiamo l'intervista realizzata poco fa con Asia Argento Asia Argento a Teramo un suo film in compresa l'ultimo film viene premiato perché viene premiato l'autore della fotografia è contenta? sì contentissima penso che sia un premio veramente meritato perché con pochi mezzi in pochissimo tempo Nicola Pecorini è riuscito a raccontare una poesia nel linguaggio della fotografia della luce fluida è veramente universale Pecorini è passato dal cinema visionario di Terry Gilliam al suo come si è trovato e l'ha raccontato qualcosa se c'è una che ne so una differenza particolare? ma non abbiamo parlato di differenze in realtà poi quando si lavora un film insieme è come sognare lo stesso sogno e diventa un'esperienza magica in quel senso è molto di condivisione molto profonda e quindi si tratta più di affinità è passata alla regia ma il primo amore non si scorda mai l'attrice lei continua a farla? no non continua a farla comunque non è mai stato il mio primo amore il mio primo amore era la scrittura da bambina e la riprende? la continua grazie visitare le tappe e i luoghi più belli della provincia in un percorso virtuale alla scoperta della storia della cultura e dei luoghi sacri dell'Abruzzo nasce a Campli un centro visitatori multimediale a Palazzo Farnese il servizio Sandro Mariani lei oggi parla da ex amministratore del comune di Campli tenendo a battesimo un progetto per il centro turistico del suo comune è iniziato un po' di tempo fa quando io ero appunto amministratore nel mio comune e abbiamo dato vita a questo rapporto con il COPE con il consorzio Punto Europa Teramo e abbiamo messo in campo un progetto per quanto riguarda il turismo religioso oggi vede il secondo step questo progetto vede una seconda fase diciamo con un nuovo progetto dove l'ufficio turistico del comune di Campli vedrà nascere un percorso multimediale e di conseguenza sarà più fruibile più all'altezza di quello che oggi Campli ha da mettere a disposizione dei turisti Sindaco Quaresimale il progetto Hira entra nel vivo c'è un percorso multimediale che avete allestito a Palazzo Farnese che cosa potranno vedere concretamente i visitatori una volta allestito? Sì si tratta appunto di un centro visitatore multimediale tutti i visitatori turisti potranno logicamente navigare virtualmente vedere oltre che beni locali di Campli e di intorni anche fare un percorso turistico per vedere altri itinerari sviluppati degli altri paesi partner di questo progetto voglio ricordare appunto che sono 12 paesi che hanno aderito al progetto Hira quindi un terriore step che vuole dare questa amministrazione per sviluppare il turismo locale a Campli Quando partirà? Allora stiamo provvedendo dall'allestimento voglio ringraziare appunto il COPE che se ne sta occupando i primi novembre ci sarà l'inaugurazione E adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo punto it Previsioni in Abruzzo al mattino poco nuvoloso sulle zone collinarie montane sereno sulle zone litorane nel pomeriggio sereno tra sera e notte poco nuvoloso sui settori interni e sui rilievi sereno sui settori marittimi temperatura in lieve diminuzione massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 26 e 29 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli orientali mare calmo in provincia di Termo al mattino poco nuvoloso su gran parte del territorio provinciale nel pomeriggio sereno su diverse aree del territorio provinciale tra sera e notte sereno temperature stazionarie massime comprese tra 25 e 28 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 26 e 29 gradi sulle coste venti deboli meridionali mare calmo grazie a tutti siamo allo sport iniziamo con il calcio nel match contro la lucchese l'aquila conquista la sua seconda vittoria stagionale e sfata il tabù fattori ancora una volta il trionfo è targato San Domenico autore del gol partita vediamo la sintesi dell'incontro l'aquila di Nunzio Zavettieri sembra essersi finalmente sbloccata e c'entra la sua seconda vittoria consecutiva man of the match ancora una volta quel salvatore San Domenico che così bene aveva fatto nel derby con il Teramo e con le immagini andiamo al quarto minuto quando l'aquila passa la prima occasione proprio con San Domenico ma l'arbitro ravvisa un tocco di mano e annulla la rete al settimo è sempre il folletto rosso-blu a proporsi avanti il suo tiro al volo esce fuori nell'azione successiva Perna cade in area e protesta per un presunto contatto con Especie che francamente non sembra esserci e arriviamo all'undicesimo minuto momento del gol aquilano Perna perde il duello aereo con Calistri ma il difensore ospite serve involontariamente San Domenico che rientra verso il centro e lascia partire un destro che si infila all'angolino basso 1-0 la risposta degli ospiti arriva al 23esimo Calcagni per Santini l'attaccante si gira bene e calcia Zandrini è attento e respinge minuto 36 Perna prova di rovesciata strappa gli applausi del pubblico ma non trova la porta a 4 dalla fine del primo tempo la lucchese si rende pericolosa ancora una volta sull'asse Calcagni-Santini il colpo di testa del giocatore rosso-nero è però centrale così passiamo direttamente al secondo tempo la prima occasione se così vogliamo chiamarla è di Pacilli il suo sinistro è un passaggio a Casapieri sul rovesciamento di fronte Vittiglio serve Ferretti che fa sponda per Ferrante il tiro del classe 95 si perde alto Sessantesimo per l'ennesima volta Pacilli ma oggi il suo sinistro è davvero troppo scarico per tentare di impensierire il numero uno della lucchese minuto 67 Ceccarelli in aria conclusione alle stelle il resto del match scivola via tra azioni non troppo pericolose con i padroni di casa che hanno perso qualche colpo lungo la ripresa fino a concludere la gara in sofferenza ma per gli abruzzesi va bene così sfatato il tabufattori e seconda vittoria consecutiva in campionato Nel girone B di Lega Pro Unica ieri sera si è giocato il big match tra Ascoli e Pisa terminato 1 a 1 nel pomeriggio invece si sono giocate le altre gare Pistoiese San Marino finita 2 a 1 L'Aquila Lucchese come avete sentito 1 a 0 Sant'Arcangelo Reggiana 0 a 1 Propiacenza Prato 1 a 1 Grosseto Tutto Cuoio 2 a 2 Forliancona è ancora in corso tra breve alle 20 e 30 scenderà in campo il Teramo contro la Spal alle 20 e 45 invece si giocherà Ponte d'Era Savona ma sul match dei Biancorossi seguiamo il servizio Nel girone B di Lega Pro Unica si gioca l'ottava giornata dopo il big match che ha messo di fronte Ascoli e Pisa e terminato sull'1 a 1 quest'oggi è previsto un altro incontro clou quello tra Spal e Teramo i Biancorossi si presentano nella tana della capolista per riscattare il passo falso rimediato sette giorni fa nel derby con l'Aquila Teramo in emergenza soprattutto dalla cintola in su Donnarumma e Fiore sono out mentre Lapadula Petrella e Lulli non sono al meglio della condizione nonostante questi problemi mister Vivarini appare comunque fiducioso siamo un po' contati abbiamo proprio una rosa all'osso grandi soluzioni non ne abbiamo però la cosa positiva è che quelli che sono a disposizione sono molto carichi adesso li ho trovati in questa settimana molto arrabbiati per la partita di domenica con l'Aquila quindi c'è grande voglia di riscatto e quindi questa potrebbe essere la nostra arma si gioca davanti a oltre 5.000 spettatori un pubblico degno della serie B dobbiamo essere molto carichi proprio anche per questo motivo Spal in serie positiva da 5 turni un ruolino che va sul primo posto solitario in classifica in casa ferrarese quindi c'è grande entusiasmo il tecnico brevi però è consapevole delle difficoltà del match contro il Teramo e veste i panni del pompiere siamo sicuramente soddisfatti fino a questo punto del campionato per quello che i ragazzi stanno esprimendo per come lavorano per come sta crescendo un po' in tutte le situazioni la squadra quindi in questo momento siamo soddisfatti però adesso ci aspetta una gara difficile contro un avversario di valore che rispettiamo però cercheremo comunque di di creargli più difficoltà possibili una squadra al di là dei due attaccanti che lavora bene con gli esterni con i centrocampisti secondo me il Teramo per quello che abbiamo visto si è dimostrata una squadra interessante nel senso che comunque hanno già dei meccanismi molto ben definiti tra gli stensi torna Toni Out invece Gasparetto e Lazzari l'arbitro di questa sera Spalteramo sarà diretta da Niccolò Baroni di Firenze terzo anno nella Campro Baroni ha portato a termine 39 incontri con un bilancio di 18 segni 1 11 X e 10 2 la gara Forlì Ancona si è appena conclusa ed è finita 2 a 1 a favore dell'Ancona dunque facciamo un riepilogo della giornata della quinta giornata nel gironi B di Lega Pro Unica Ascoli Pisa 1 a 1 Pistoiese San Marino 2 a 1 L'Aquila Lucchese 1 a 0 Sant'Arcangelo Reggiana 0 a 1 Propriacenza Prato 1 a 1 Grosseto Tutto Cuoio 2 a 2 Forlì Ancona 1 a 2 Carrarese Gubbio si gioca alle 20 e 30 Spalteramo Idemma alle 20 e 30 alle 20 e 45 si sarà la gara tra Ponte d'Era e Savona nel girone F di Serie D è in programma il sesto turno di campionato per quanto riguarda le formazioni abruzzesi impegni casalinghi per il Chieti che riceve la visita della Jesina e per il Giulianova che deve affrontare il Celano nell'unico derby di giornata Tutto è in trasferta le altre squadre della nostra regione la Miternina va sul campo della capolista maceratese il San Nicolò invece è di scena contro il Fanalino di Coda Vispesaro con il prossimo servizio facciamo il punto sugli impegni di domani Nel campionato di Serie D si gioca la sesta giornata turno importante per le formazioni abruzzesi che cercano la continuità di risultati per proseguire la rincorsa ai rispettivi obiettivi il Chieti secondo con 11 punti attende la visita della Jesina Nero Verdi ancora in emergenza scontate le assenze di ben 6 elementi da valutare Cucinotta mentre Arcamone potrebbe recuperare e andare in panchina nonostante i tanti infortunati la squadra di Ronci ha già dimostrato di avere una precisa identità e punta ad allungare la sua imbattibilità stagionale un'altra squadra che attraverso un momento d'oro è San Nicolò che domani è di scena sul campo della Vispesaro Marchigiani ultimi in classifica con due punti Teramani a meno 3 dal primo posto e reduci da due vittorie consecutive almeno sulla carta il Tris non appare missione impossibile da tenere d'occhio il solito Bisegna che è in grande condizione come conferma il suo ruolino sottoporta per lui due reti nelle ultime due partite di campionato molto più complicato invece è il compito che attende la miternina gli aquilani infatti devono rendere visita alla capolista maceratese squadra che soprattutto in casa è un rullo compressore due partite sei gol segnati e uno solo subito gli uomini del tecnico Angelone hanno bisogno di una grande prestazione per uscire imbattuti dalla tana della prima della classe emozioni forti poi dovrebbe regalare anche l'unico derby abruzzese di giornata quello tra Giulianova e Celano al Fadini si incontrano due formazioni in forte crescita i giallorossi di Fabiano vogliono dare seguita alla vittoria ottenuta sette giorni fa a Termoli il Celano dal canto suo insegue il secondo successo di fila un successo che lo allontanerebbe ancora di più dalle zone basse della classifica come ogni derby non c'è una squadra favorita il match del Fadini quindi si preannuncia tirato Enrico Di Patos domani nel campionato di eccellenza si gioca il settimo turno due match clou previsti dal calendario Martinsicuro Avezzano e Torrese Angolana nelle zone basse spicca invece Montorio 88 Cupello match che mette in palio importanti punti in chiave salvezza e servizio Il campionato di eccellenza si appresta a vivere il settimo turno in programma tanti match interessanti che potrebbero stravolgere la fisionomia della classifica in testa ci sono tre squadre San Salvo Pineto e Avezzano a proposito di questo terzetto il compito più duro della giornata sembra essere proprio quello dell'Avezzano Biancoverdi di scena sul difficile campo del Martinsicuro un Martinsicuro che nel mese di settembre ha raccolto ben 10 punti esordio complicato quindi per il neotecnico marsicano Alessandro Lucarelli che in settimana ha rilevato Luigi Morgante esonerato nonostante il primo posto in classifica impegni casalinghi invece per le altre due capoliste del girone il Pineto ospita l'acqua e sapone mentre il San Salvo riceve la visita del Miglianico se vogliono continuare a sognare i ragazzi di Gallicchio e quelli di Ciarrocchi devono rispettare il fattore campo e strappare i tre punti in palio per quanto riguarda le terramane il big match è rappresentato dallo scontro al vertice tra Torrese e Angolana i terramani sono secondi a meno uno i pescaresi terzi a meno due partita quindi fondamentale per la classifica tutto dipende dalla sfida a distanza tra i bomber delle due squadre Pigliacelli da una parte e Orta dall'altra chi segna allontana gli avversari dal primato trasferta insidiosa per l'alba adriatica che va a paterno sul campo di una tra le squadre più in forma del torneo gli aquilani sono favoriti dal pronostico ma occhio all'albenze di Massimo fantasista classe 96 baby rivelazione di questo avvio di campionato sempre nelle zone basse si annuncia molto tirato l'incontro tra Montorio e Cupello in palio ci sono punti importanti in chiave salvezza chi vince respira chi perde scivola nei bassi fondi a proposito di salvezza fuori dai confini della provincia Terramana spiccano Capistrello Vastese Vasto Marina Borrello e Sulmona Francavilla tre match in cui sono coinvolte delle squadre che devono evitare la retrocessione diretta in promozione il calcio a 5 non ce la fa il Custeramum a centrare la seconda vittoria stagionale la gara sul campo del Celtic finisce 5 a 3 per i padroni di casa a lunga invece in classifica il Ginnasium Audax Atria che si aggiudica il derby con un perentorio 4 a 1 sull'Atletico Silvi gli atriani al primo posto possono contare adesso su un più 3 sulle nuove seconde il Civitella Sicurezza Pro e il Bignè Futsal Avezzano il palinsesto di Teleponte si allarga anche al basket grazie ad un accordo steretto tra la nostra emittente e il Roseto Basket e grazie alla preziosa collaborazione della Publi Video che riprenderà i match i tifosi biancazzurri potranno rivedere la differita integrale delle partite della squadra di coach Tony Trullo appuntamento ogni martedì alle 21 sul canale 638 Teleponte Sport e tutti i giorni dal martedì al sabato alle 20.30 sul canale 639 Televibrata si corre domani a Bellante la prima edizione dello Slalom non agonistico città di Bellante dopo Tortoreto Civitella del Tronto Castel di Sangro a Teleta e Monte Prandone l'associazione Vibrata Racing Lab associazione Wisp Automobilismo ha scelto un percorso che non mancherà di riscuotere l'interesse di tutti gli appassionati delle quattro ruote dopo la formalità di gara la corsa partirà alle 10.30 da San Mauro lungo la provinciale 16 per salire fino a Bellante Paese 45 le autovetture in gara suddivise in numerose categorie a seconda della cilindrata e della preparazione come sempre lo spettacolo è assicurato attesi 800 atleti domani alla gara podistica Stralanciano un appuntamento più che tradizionale per Lanciano ma saranno protagonisti anche i bambini in servizio conferenza stampa per presentare la 35esima edizione della Stralanciano una delle gare podistiche abruzzesi più longeve ma anche più numerose a livello di partecipazione si prevedono domenica 12 ottobre circa 800 iscritti non c'è più la mezza maratona in programma come negli anni precedenti ma una 10,6 km competitiva e poi le distanze non competitiva e le prove dei ragazzi Guido Catenaro è il patron storico della Stralanciano per una manifestazione storica 35 edizioni e quasi record in Abruzzo e non solo in Abruzzo in Abruzzo si innovera tra le prime tre diciamo sia di partecipazione e sia di qualità malgrado diciamo così l'austerità gli sponsor diciamo così le ditte private hanno risposto alla grande quindi ci incoraggia ad andare sempre più avanti invitiamo tutti i langianesi i frentani e quelli magari di tutto l'Abruzzo a partecipare a questa manifestazione magari anche a camminare a correre ma tre chilometri in questa domenica che sarà bellissima anche a livello meteorologico a capo dell'organizzazione della Stralanciano c'è anche Giacinto Verna il ritrovo è alle ore 8 appunto a Lanciano a Piazza Plebiscito per tutti gli atleti e i partecipanti alle 9 e mezza poi dopo la prima fase di riscaldamento ci saranno le partenze che secondo me sono poi le gare più importanti le partenze dei bambini e delle bambine alle 10 invece la partenza della Stralanciano che è una gara la classica Stralanciano di 10 chilometri e 600 metri quest'anno non è prevista la mezza maratona l'abbiamo tolta dal contesto della Stralanciano per evitare che la Stralanciano appunto perdesse di importanza in chiusura vi ricordiamo la programmazione di Teleponte Canale 15 per domani alle 9 si comincia con la rassegna stampa di Buongiorno Abruzzo Luigi Arellio Pomante e Gustavo Bruno leggeranno e approfondiranno le notizie in edicola sui principali quotidiani locali abruzzesi nel pomeriggio alle 14 e 50 sarà il momento di studio stadio previsti collegamenti con i campi in cui sono impegnate le squadre della nostra regione e alle 19 e 30 le parole lasceranno lo spazio alle immagini nel corso di game over vi mostreremo infatti tutti i gol segnati durante questo lungo weekend sportivo e con questo è tutto grazie per l'attenzione buona serata e buona domenica grazie a tutti 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 grazie a tutti